Real World Data e impatto economico, una sessione molto importante all'interno del XV Congresso Nazionale della SITA, dove verranno presentati dal dottor Russo dell'AIFA i risultati di due studi condotti in collaborazione tra AIFA e SITA, tendenti a dimostrare quanto è real world data e i registri di monitoraggio possano rappresentare un sostegno della valutazione di HTA. In un primo studio verranno presentati i risultati inerenti le determinanti dell'impatto sulla spesa farmaceutica dei medicinali per malattie rare, mentre un secondo studio, facendo sempre i corsi real world data, illustrerà come i diversi modelli organizzativi influiscono sull'adozione, sull'accesso di una nuova tecnologia farmaceutica.